Gestivano lo smercio di sostanze stupefacenti sul territorio siciliano, anche se l'obiettivo principale restava quello della vendita all'ingrosso di hashish, marijuana, cocaina e d'oreina nelle piazze palermitane di Ballarò, Falso Miele, Cruillas e dello Zen. Con questa accusa sono stati arrestati stamattina Giovanni Gambino, di 34 anni, Giuseppe Leto, di 44, Domenico Lopresti, classe 42, e i fratelli Pietro e Salvatore Vitale, di 32 e 57 anni. Tutti i palermitani e tutti già noti alle forze dell'ordine per i loro precedenti penali specifici nel settore degli stupefacenti. L'attività svolta dai uomini della narcotici denominata Operazione Sambuca 2 parte da un importante arresto di un corriere napoletano effettuato nel febbraio del 2011 e che aveva permesso di risalire a una vera e propria banda della droga, i cui componenti, alcuni dei quali già oggetto di misure cautelari, pur non essendo formalmente affiliati a Cosa Nostra, godevano comunque del suo beneplacito. A gestire il mercato degli stupefacenti a Ballarò, secondo gli inquirenti, ci sarebbe stato Giovanni Gambino, che oltre a rifornire la zona dello Zen, avrebbe avuto anche dei legami con i fratelli Vitale, che si occupavano del traffico di eroira dalla Calabria. Ed è proprio grazie alle indagini e ai pedinamenti di un uomo di fiducia di Gambino, Giuseppe Foglietta, che gli inquirenti hanno scoperto a Ballarò un appartamento che fungeva da deposito e da laboratorio della droga, trovando bilancini di precisione e materiale da taglio per gli stupefacenti. Sicuramente sono piazze che non hanno mai abbandonato questa caratteristica criminale. In effetti questa attività comunque ha cristallizzato anche una sorta di fenomeno della globalizzazione, anche della vendita dello stupefacente, perché non sono le uniche due piazze coinvolte, ma anzi si è documentato anche una sorta di favoreggiamento tra le varie piazze criminali della città, che ha portato magari anche a cercare uno scambio di favori, chiamiamoli così, tra soggetti dediti al crimine. Non c'è anche un collegamento con Cosa Nostra? Non direttamente. Non è emerso nessun elemento affiliato formalmente a Cosa Nostra, però dato il quantitativo di droga sequestrato e l'ampiezza delle trattative che si sono documentate, è molto difficile ipotizzare che si possa ottenere il controllo del mercato della droga in queste zone cittadine senza che ci sia quantomeno un placet da parte di chi controlla il territorio criminalmente.